La sua voce pagata, i suoi punti, tornano come lezioni impartite da una cattedra, ma ancora più affascinante era sentirlo suonare. La sua passione per l'organetto sarebbe diventata in futuro tutta la mia vita. Cadenzava il passo giusto e annunciava eventuali soste. Le ragazze si muovevano lungo i tornanti della montagna con un'andatura sinuosa. A Vallauria c'erano, e ancora ci sono, due pozzi distanti l'uno dall'altro. Era un centinaio di metri. Destino volle che i due pozzi servissero sia ai tedeschi che agli alleati, per attingere l'acqua della sopravvivenza. Come agli inizi del novecento. Anche ora, in tantissimi, erano costretti ad emigrare. In paesi lontani, Belgio, Germania, nelle Americhe. Anche ora, in tantissimi, erano costretti ad emigrare.